Stiamo lanciando una campagna di crowdfunding per la Global Impact Competition e vogliamo il tuo supporto. I fondi raccolti dalla campagna verranno destinati a finanziare una borsa di studio per un italiano per andare al programma estivo della Singularity University, la Global Solutions Program. La scelta della persona avverrà attraverso un concorso esteso a tutti gli italiani della durata di un mese che verrà lanciato a fine gennaio. Questo concorso vedrà la partecipazione di centinaia, forse migliaia di persone con le loro idee, la loro passione e i loro progetti. È una giria degli sponsor, degli esperti, degli ex studenti e anche scelti tra coloro che supportano la campagna e verificherà chi è la persona più meritevole, un italiano o un'italiana, la cui vita verrà cambiata da questa esperienza. La Singularity University, presso il centro NASA Research Park in California, finanziato da Google e da altre società di alta tecnologia, studia le tecnologie esponenziali. Come l'accelerazione tecnologica concretamente cambia la nostra vita e migliora le condizioni delle persone attorno a tutto il mondo. Le idee e le tecnologie che vengono studiate permettono a team di appassionati che si riuniscono per dieci settimane, da giugno ad agosto, di formare delle start-up se vogliono, per continuare a lavorare e a creare un grande impatto positivo. Attraverso l'aiuto di Accelera, una associazione non-profit fondata da ex studenti e simpatizzanti di Singularity University, il concorso Global Impact Competition Italia è stato organizzato già tre volte nel 2012, 2013 e 2014 e ha portato le persone in California, veramente con grande successo e grande entusiasmo. Adesso vogliamo organizzare, sotto il coordinamento del chapter di Milano, Singularity U Milan di Singularity University, questo nuovo concorso per l'anno 2016. Raccogliamo i fondi che coprono il vitto, l'alloggio e la docenza per la durata di dieci settimane da giugno a settembre e separatamente anche i costi di trasferta, il volo aereo dall'Italia alla California. La Global Impact Competition viene organizzata attorno a tutto il mondo in più di una dozzina di paesi, quest'anno forse saranno addirittura due dozzina e ognuno dei paesi sceglie qual è la persona migliore per partecipare al corso della Singularity University. Anche in Italia vogliamo scegliere una persona entusiasta, con grandi idee, con un desiderio di utilizzare le tecnologie esponenziali per cambiare il mondo in un verso positivo, per influenzare al meglio la vita delle persone, costruire un futuro insieme e migliorare anche l'Italia attraverso la forza delle proprie idee. Grazie per il vostro supporto, per il vostro successo, la Global Impact Competition Italia 2016.